Il verdetto con ogni probabilità arriverà non prima della fine del mese e ciò rende l'attesa ancora più incredibile visto che non si gioca ormai da marzo. Nel frattempo però in casa polisportiva Bitonto hanno fatto i compiti a casa e cioè presentare domanda di ripescaggio per il prossimo campionato di A2. Traguardo sfuggito sul campo e poi nelle successive e iniziali decisioni della federazione. In casa nero verde filtra un cauto ottimismo ma in realtà nessuno si sbilancia più di tanto prima di sapere cosa decideranno dai e nei vertici alti. La promozione la prima storica per il futsal femminile sarebbe e scusateci se siamo campanilisti non solo un traguardo meritato per l'intero roster ma soprattutto per il patron Silvano Intini che mai come in questa stagione ci ha messo tutto l'entusiasmo, la pazienza e la disponibilità che raramente si vedono in altre piazze e che ne siamo sicuri è pronto a mettere ancora tutto se stesso se quello davvero desiderato si concretizzasse. E sarebbe un'ordalia per la città tutta che ha già reagito a suon di trombe alla promozione del bitonto calcio in Lega Pro e del futsal bitonto in Serie B.